Per arrivare all'obiettivo di una mobilità sempre più sostenibile non devono mai mancare le azioni per favorire e facilitare i cittadini intenzionati a cavalcare la transizione per tutelare ambiente e salute. Prima che arrivino le richieste deve già esserci l'offerta di servizi efficienti e convenienti, così la minoranza incalza il comune, perché a fronte della presenza in città di colonnine elettrici sempre più spesso queste si rivelano non funzionanti. Sono inoltre il numero insufficiente, tanto che chi vuole caricare il veicolo spesso deve fare il giro della città e aspettare a lungo. Non ci sono poi agevolazioni viabilistiche. A Cremona ci sono colonnine per la ricarica di auto elettrica che rimangono troppo spesso fuori funzione e fra l'altro ce ne sono troppo poche rispetto al parco veicolare elettrico che sta aumentando. Inoltre a Cremona non c'è la possibilità per le auto elettriche di transitare in ZTL e di sostare nelle auto blu a condizioni agevolate come avviene invece nelle altre città che stanno davvero aprendo alla mobilità sostenibile. Ho segnalato queste cose in consiglio comunale ma l'amministrazione fa orecchie da mercante e per ora non è intervenuta. L'introduzione del bike sharing si è rivelato un flop ma la cosa più grave è che i resti di questa iniziativa giacciono nella città in stato di abbandono. Minimo un anno che sono in disuso, poi le vedete anche come sono conce le bici, ruota buca, la catena che non c'è e non so cosa rimangono qui a fare. Anche perché io dico arrivano i turisti, girano, dicono ma stamattina di fatto è venuto un signore qua e si è messo qui col cellulare e dopo avrà visto che non vanno. Sul tema del bike sharing, delle bici a disposizione non solo dei cittadini cremonesi ma anche dei turisti c'è un impianto che è fermo da anni. Mi domando un'amministrazione che continua a dire di voler investire sul turismo e sul rilancio della città perché non fa atti concreti per dare servizi ai turisti e per far rendere questa città più attrattiva, più vivibile e più facilmente percorribile.